Ok, ora dobbiamo controllare se la casa è sicura Il cibo per cani Ok, controlliamo il piano di sotto Tutto vuoto Niente corrente Niente cibo Qualcos'altro Zero Beh, magari l'hanno spostato tutto al piano di sopra Un bottiglia Il tavolo Allora Bottiglia di whisky Eh, vabbè l'avrei dato al barbone, dai Dipinto Guardiamo questo Da notare il cane Fuori uno Ci dobbiamo preoccupare degli altri tre Osserviamo il dipinto di un altro Guardiamo qui Guardiamo qui Dai Ta-daan Anche qui è vuoto Solo un altro Il barbone Il barbone Il barbone non capisco come cazzo ci trova Anche se se la cava E' quella Solo niente No No Mi sa che gli dobbiamo togliere la gamba Ma sono davvero scoperto che il legale potrebbe essere infettato Non credi che tu avessi alcune medie mentre ti stavessi Non, è solo freddo E c'è qualche whisky Allora E c'è qualche whisky Vabbè, ne? Se la dobbiamo amputare C'è un po' di Clementine Se la c'è chi è il ragazzo L'uomo È tutto bene, amore Tu puoi dire Chi è? Che vuole? Che vuole? Noi qui, Clem, è ok, tu non sei in problemi. È solo un amico, non credo che ci vuole uscire. Cosa ha detto a te? Cosa ha detto a lui? Le ho detto che ho cercato a trovare i miei amici e che erano in Savanna. Il sembra davvero bello, credo che mi vuole ai trovare. Clementine, amico, credo mi, non è quello che vuole. Lei? Lee? Lee, devi arrivare qui ora. Cosa è vero? È Kenny. Oh, merda. Kenny ha detto che pensava che ho ascoltato qualcosa da qui. Si è andato a guardare. Non è qui? Non posso farlo andare qui sotto. Quanto scommettate che c'è qualcuno lassù? Mai lo tieni in nostalgia. Oh, no. Kimmy? Kimmy, sei ok, ragazzi? Boh, magari in preghiera. Jesus. Che dicole è quella? Oh, mio Dio. Ma che cazzo... No. Sarà bel figlio. Ma che cazzo, non? È solo un figlio. Ma che cazzo con lui? Non c'è nulla con lui. Credo che c'è un figlio. C'è un figlio di qui. C'è un figlio. C'è un figlio. Jesus Christ. Non c'è un figlio. Non c'è un figlio. C'è un figlio. C'è un figlio. Ke one ragas mano. C'è sizin親 ily preszex potòria. Eaczás quartik, non fric** potui. Ma dompulha uf tomorrow. Guarda questo ragazzo, faccia quello che è giusto per lui, manda il suo cammino. Che poi io dico, ma non potevamo usare un'altra arma? Perché è proprio la pistola? Vicino al cane, lo sepediamo sul cane. Puuu. Che cazzo lo tocchi? Che schifo. È carne marcia, dai. E' ritrovato in vita adesso. Posso buttarla nella fontana? Magari la laviamo prima. Metti il ragazzino dentro la fossa. Vicino al cane. In posizione effettuale. Dai, sono incastrati perfettamente. E' un buon giocatore di Tetris. Il personaggio. Osserviamo il ragazzino. Un'ultima occhiata. Non lo rivedremo mai più. Madonna, quanto è secco. Potremmo fargli mordere qualcuno. Sapete com'è? Un ultimo pasto. Come si fa in prigione. Un ultimo pasto prima di morire. Ma... Dai, che c'è? Putta. Ma anche se non lo fai così delicatamente, eh. Butta in fretta. Dai che non c'è tempo da perdere. Oddio, la bambina ci guarda. Vuoi essere seppellita anche tu? Vuoi farti dare un morsetto? Che sono questi... Sguardi da funerale? Tanto lì anche lo conoscevamo. Chi se ne frega. Madonna, quanto è delicato. Oddio. Ma quel ferrocio chi è? Ma che cazzo? Chi sei? Che vuoi da noi? Lee, cosa sta succedendo? Eh, che cazzo era? Vi ho visto qualcuno stando là, per la finestra. Sto guardandoci. Un walker? No, troppo fasto. Mi stavano come un batto in una piazza quando ho scoperto. E' un uomo o una uomina? Non ho un buon enough look. Che cosa è? Sto chiedo se è il stesso uomo che ci ha seguito. Il uomo sulla radio. Lontare Kenny, sempre più distrutto. Gli occhiaie pesanti. E' un po' di più. Beh, mi ha mai fatto. Because i'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walkers look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's out there keep us boxed in, wait for them to starve us out? No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. Omeed non è in grande forma per muovere, ma non possiamo fare niente per lui qui, senza medici o un doctore, lui sarà solo più vero. Ok, ok, io andrò al rivero con Kenny per scopare un po' mentre tu hai Omeed pronti per muovere. Che cosa per me? Tu non rompere il cazzo. Tu non rompere il cazzo. Ha! Aspettate, non posso arrivare? La mia mamma e il papà non possiamo farlo ora. Magari possiamo trovare loro sulla via al rivero. Ehm... Ehm... We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train, remember? Ok... Ecc... Perché tu hai anche roba? Vado a prendere la mia roba e poi usciamo. Ma non c'è, non è roba, è solo quella. Tu... forse me li stisste zitto. No offence, Ben, ma mi senti più sicuro se stessi qui. Ha! Come potrei non prendere offence a questo? Cosa sono? Una liabilità? Esatto. Great. Just great. Grazie molto per il voto di confidenza. No, non ci ho ricevuto, Ben. E tu hai un lungo per andare per ottenere la tua volta dopo alcune delle cose che hai tirato. Ti senti? Sì. Sì, senti. Sì. Maddana, lì gli sparo in faccia. Coglione. Ci ha venduto i banditti. Ha lasciato Clementine in mezzo agli zombie. E poi voleva anche fare il coglione. Pfff. Sss. 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 Il nostro Lee è preoccupato. Sì, vabbè, questo l'ho dato anche prima. Ancora. Ah sì? Ne sei sicuro? Ma che minchia... Ha. Qualcuno, se lo trovo chiunque, ringerò la loro bellissima per loro. Non è... Quella lì che striscia. Ha quattro zompe. Non c'è ancora nulla attraverso. Credo che siamo... Oh mio Dio... Oh, merda. Ha la faccia della barca? Ha la faccia della barca, eh? Ha la faccia della barca, ha la faccia della barca. Ok, ma non penso così. Magari dobbiamo arrivare con un nuovo plan. Questo è il plan. È l'unica che abbiamo. E tu stai sbagliando in fronte di tutti, come ti hai fatto in casa, e non ti aiutai. Ma non ti ho dato così facile. Eh, cazzo tu, trovala una barca. Se vuoi usare un treno, vuoi usare come barca. O vuoi fare tu la barca. Boh. Non ce n'è, sono tutte distrutte. Pfff. Coglione, usa questa. Dai! Questa può ancora essere salvaggabile. Ah sì? 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 Hai una buona idea? Sì! 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 Vediamo. Magari troviamo davvero qualcosa. Magari è una barca davvero. Oppure un carro armato. O un elicottero. medication con odi criminale. Ho tough,SUans fundamentalmente c'è lo staffierà,